Per una mobilità leggera, ecosostenibile, da carrozzina a scooter con tri-ride, ausilio da applicare a qualsiasi modello di sedia a rotelle, 50 km di autonomia, salite e discese in piena sicurezza. L'ideatore è Gianni Conte, gira l'Europa, dal mare alla montagna, per turismo, ma anche per testare il suo tri-ride verso modifiche o adattamenti. Sono un grande viaggiatore, vado molto in giro. Sono stato a Barcellona, a Madrid, in montagna, a Livigno, a Folgaria, in tante località. Questo è da un anno circa che lo sto testando e mi ha dato di nuovo il piacere di fare il turista, di poter stare in compagnia con gli altri senza dovermi io affaticare o costringere qualcuno a dovermi spingere. E soprattutto l'esigenza è nata perché io vivo in un luogo collinare molto simile alle salite che ci sono a San Marino e di conseguenza dopo 25 anni di storia in carrozzina, perché ho avuto un incidente sportivo 25 anni fa, mi sono detto basta, fra fatica, è venuto il momento di cominciare a preservare quelle che sono le nostre funzionalità, le nostre potenzialità. Il gusto del viaggio, al di là delle barriere, ed è turismo accessibile come nuova cultura dell'ospitalità, senza trascurarne l'opportunità di business. È un movimento vastissimo che si sposta valutando se il luogo è comodo, cioè oltre che le bellezze, oltre che il buon cibo, l'arte, la cultura, la storia e quant'altro, vuole anche questo tipo di attenzione, questo tipo di accoglienza, che mette nella condizione di stimare quel luogo turistico come un sito nobile, questa è nobiltà. Sale sul Titano insieme a Consorzio 2000 nel progetto San Marino per tutti, turismo accessibile, le linee guida sono già nel progetto di legge sulla disabilità. San Marino nel momento in cui ha ratificato la Convenzione ONU sulla tutela delle persone con disabilità nel 2008, è impegnato ad implementare le proprie normative, appunto, sulla base di quanto contemplato in questa convenzione. Verso la prima torre, pendenza 20%, un piccolo aiuto per superare il limite, cambiando prospettiva.